ok in questo tutorial visto che siamo in tempi di quarantena per coronavirus vedremo come monitorare appunto l'andamento del coronavirus nelle varie regioni italiane usando grafana ma per chi non lo sapesse grafana è una dashboard che permette appunto di visualizzare vari tipi di dati sotto forma di grafici eccetera per farlo appunto collegheremo grafana mysql e grafana può lavorare con vari formati con vari tipi di feedback in questo tutorial useremo mysql ma si può usare json un sacco di altri data source appunto fonti di dati ma come detto noi useremo mysql e ai dati li prendiamo da questo sito qui che appunto ha un repository github della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile qui abbiamo questo repository chiamato covid19 all'interno di insomma vari dati in vari formati noi andremo qui in dati regione in questo dati regione appunto abbiamo questi file csv come vedete ogni csv la data 2020 0 3 16 15 16 marzo del 2020 15 marzo del 2020 così fino ad arrivare appunto al 24 ma noi ne useremo solo alcuni diciamo solo gli ultimi 4 5 ma poi voi volendo potete implementarlo quanto volete per farlo per importare i dati appunto questi file csv usaremo uno script python che io ho qui già preparato e che trovate nel repository e quindi niente non giudicate troppo il codice in python non sono proprio un gran programmatore e quindi probabilmente questo questo script si può fare in modo molto migliore anzi se qualcuno di voi è in grado di farlo meglio lo commenti pure nel nel repository che vi metterò a disposizione e comunque premesso questo appunto qui abbiamo appunto il nostro requirement il nostro ambiente virtuale eccetera con cui importare i dati e quindi niente io userò appunto tre container docker uno per mysql uno per php myadmin e uno per appunto grafana quindi possiamo pure andarli a lanciare ok come detto il primo repository che andiamo a creare il primo container che andiamo a creare è un database mysql qui appunto lo abbiamo creato come vedete lo abbiamo chiamato coil container covid19 mysql qua mettete il password che volete io intanto ho lasciato solo password poi andiamo a creare un file php ma è un container php myadmin appunto come vedete qua appunto lo linkiamo al nostro mysql mettiamo appunto qua link comunque per chi vuol sapere di più su come a collegare php myadmin e mysql c'è un repository c'è un tutorial sempre qui sul canale ora andiamo a creare il nostro container grafana anche qui come vedete andiamo a collegare il nostro mysql quindi lo lanciamo ok docker ps come vedete abbiamo i nostri 3 container funzionanti andiamo subito a vedere php myadmin 0.081 root password ok siamo dentro qui andiamo a creare un nuovo database lo chiamiamo covid19 e qui all'interno andiamo a creare un database regioni io lo importo perché l'avevo già fatto prima quindi 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 andiamo qui lavori ok qui abbiamo un nostro database regioni come vedo già dentro i dati adesso vado a cancellarli faccio un attimo vedere la struttura appunto abbia o meglio prima vi faccio vedere la struttura la struttura del csv come vedete io ma insomma si fa nella cartella in locale come vi ripeto li ho presi da questo repository qua che poi vi linko in descrizione abbiamo appunto aspettate apriamo l'ultimo e questo è il csv come vedete abbiamo una data abbiamo lo stato qualice regione denominazione latitudine longitudine ricoverati con sintomi purtroppo terapia intensiva totale ospedalizzati isolamento domiciliare totale di quelli attualmente positivi nuovi attualmente positivi dimessi guariti deceduti molto purtroppo deceduti totale casi e qui i tamponi effettuati e come vedete noi abbiamo replicato all'interno del nostro mysql questi campi a data appunto abbiamo messo campo date stato un varchar codice regione un integer denominazione appunto un varchar latitudine e longitudine due float ricoverati poi tutti gli altri sono appunto degli integer qui appunto nel nostro parser diciamo nel nostro lettore nel nostro script python appunto abbiamo sistemato la data tramite strptime e anche qui appunto abbiamo convertito siccome leggeva tutti i dati come stringhe abbiamo convertito appunto in integer in float eccetera 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 insomma nel modo corretto e appunto siamo andati a salvarli quindi quello che dobbiamo fare è appunto far puntare leggere appunto i vari file che abbiamo qua in dati regione uno alla volta quindi partendo appunto inserendo appunto qua i vari nomi dei vari file in questo modo li andiamo a storare qui all'interno quasi quasi non sto neanche a cancellarli visto che vi è già dentro per velocizzare un po' il tutorial comunque poi vi basta appunto lanciare il comando python3 python3 stordata e lui insomma li va a salvare nel database qui appunto c'è il nome host la porta nome utente la password e il nome del database mentre qui appunto le regioni abbiamo un nome della tabella dei campi che deve salvare con il loro placeholder qui appunto gli passiamo poi tutti i nostri campi e qua appunto effettuiamo la la query l'esecuzione del salvataggio quindi una volta che abbiamo andato i nostri dati non ci resta che andare in grafana che la troviamo sulla porta 3000 quindi facciamo così 3000 nella prima nel primo utilizzo entriamo come admin admin e poi ci chiede di cambiare la password io la chiamerò password password e qui siamo dentro ora che siamo dentro non ci resta che collegare appunto la nostra data source se scendiamo qui troviamo mysql se volete potete chiamarlo mysql covid19 questo è solo un riferimento potete già metterlo di default in modo che in automatico quando andrete a fare dei query per ottenere i grafici in automatico partite con questo qua mettete il localhost io metto db perché come abbiamo visto prima quando abbiamo creato quando abbiamo creato il il database lo abbiamo connesso tramite appunto lostdb una volta messo db qua mettiamo il nome del nostro database che appunto è covid19 non utente root password password qua sotto andiamo salva e testa database connection ok quindi qui siamo a posto quindi ora non ci resta che creare una dashboard ora che abbiamo creato il nostro dashboard qua abbiamo appunto il primo pannello che possiamo creare andiamo su scegli visualizzazione qua abbiamo appunto queste possibilità di grafico andiamo a scegliere questo come inizio ora non vediamo niente appunto perché ovviamente come prima cosa dobbiamo andare ad effettuare la query per effettuare la query selezioniamo appunto la nostra fonte di dati nel nostro caso default mysql covid qua selezioniamo appunto il nome della nostra tabella qua qua come time column mettiamo data e qua come metric column selezioniamo denominazione regione questo dove c'è where cliccando sopra qui su macro facciamo remove come vedete ora ci appaiono tutte le nostre regioni questa è appunto la leggenda con le nostre regioni qua su select andiamo a scegliere appunto il dato che vogliamo visualizzare qui ad esempio abbiamo andiamo a vedere che date possiamo mettere deceduti evitiamolo per buon gusto quindi andiamo a vedere un dato un po più positivo di messi guariti ora qua come vedete non vedete niente per il semplice fatto che noi abbiamo dei dati giorni di giornalieri qua stiamo visualizzando solo le ultime ore quindi dobbiamo andare qua sotto dove abbiamo mean time interval e mettere 1d ovvero un giorno relative time possiamo mettere 10d ovvero 10 giorni e come vedete ora il quadro c'è time shift possiamo mettere 1d e come vedete ora ci apparsa appunto la curva dei nostri dei nostri appunto delle varie regioni ora come vedete la curva della Lombardia quella più grossa è un po' ad oscurare le altre curve però se noi clicchiamo ad esempio su Sardegna possiamo vedere su Molise o Lombardia ah ok o Friuli Venezia Giulia come vedete applicando sulle varie regioni poi possiamo vederle appunto tutti insieme in realtà come vedete qua ci sono tutte le regioni ma vengono tutte oscurate appunto la Lombardia che le va a coprire se torniamo qua in visualization quindi qua su questo logo avete potete creare quelli e dopo vedremo come aggiungerne altre ecco siamo qua su visualization possiamo un po' ad implementarla vedete possiamo aggiungere dei punti possiamo 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 volendo potete mettere anche delle barre ma con questo tipo di dati sulla timeline non funzionano molto poi vedremo altre tipologie di grafici insomma qua come vedete potete fare un po' di aggiustamenti grafici qua potete muovere la leggenda ad esempio mettete che volete metterla a destra via pari di qua però secondo me questo è il posto miglio in cui tenerla sotto e una volta fatto potete andare qui dove c'è appunto general potete dargli un titolo che ora non mi ricordo che dato abbiamo ma dimessi guariti ok dimessi guariti covid19 poi potete scegliere trasparente o meno fatto questo salvate la dashboard potete dargli un nome covid19 regioni italiane salviamo e ora quindi qui abbiamo appunto il nostro primo grafico poi andando a creare un secondo aggiungi poi andiamo a scegliere la visualizzazione proviamo con questo bar gaug questo ora non vediamo niente andiamo qua su show possiamo fare all value possiamo scegliere ma poi andiamo a mettere la qui dopo andiamo ad aggiustare la grafica qui facciamo di nuovo come prima regioni qui facciamo anche qua data come time column come metric column come metric column scegliamo denominazione regione qui andiamo a scegliere qualcosa di totale casi qui andiamo a togliere il wire ora come vedete qua andiamo a mettere qua ok lo lasciamo così per ora perchè dobbiamo tornare qui in visualization qui dove abbiamo all values vogliamo mettere calculation come vedete ora comincia a vedersi qualcosa di più e qua dove abbiamo caldi mettiamo l'ultimo numero non vuoto last not null quindi ora qua possiamo scegliere appunto l'orientamento possiamo metterlo verticale come vedete qua sotto c'è il nome della regione qua sopra appunto il numero dei casi è impressionante il differenziale tra la Lombardia e gli altri qua appunto potete scegliere uno stile grafico quindi qua abbiamo ok 3 lcd qua appunto potete mettere appunto dei threshold che quindi vi cambiano il colore a seconda del della gradazione a cui arrivate quindi proviamo ad aggiungere ancora uno facciamo che da 5000 in poi deve diventare rosso che fino invece a 2000 no 3000 può rimanere mai facciamo arancio e come vedete appunto la gradazione va a cambiare a seconda della del crescere dei numeri come vedete appunto il totale dei numeri poi abbiamo cambiato un attimo basic ok ingredient come vedete insomma potete anche qui fare un po' di scelte e anche qui quindi andiamo a dargli un titolo qua abbiamo adesso tutto tale casi quindi qui totale casi covid19 regioni italiane ok ok salviamo 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 torniamo indietro ora se volete passiamo un po' allinearlo ora così viene un po' stretto qua ci taglia ci taglia i i nomi quindi 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 entriamo qui facciamo un bel edit e magari diciamo di metterli in orizzontale torniamo di qui ingrandiamo un po' qua sotto lo prendiamo e ora è più leggibile ok quindi proviamo con un altro grafico ancora aggiungiamo un pannello anche qui andiamo a visualizzarlo proviamo con appunto il gouge e qui 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 andiamo anche qui a dirgli e qui andiamo anche qui a fare la query dopo andiamo a sistemarlo graficamente quindi cerchiamo di nuovo la regione e pa 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 anche qui mettiamo data come time column qui andiamo a scegliere un dato un dato andiamo a vedere ok i tamponi questo lo andiamo a togliere qua vedete ok qua mettiamo table ovviamente ci escono i tamponi di tutte le regioni ma noi in realtà vogliamo solo ok l'ultimo valore non nullo ok quindi come vedete abbiamo 35.052 tamponi time series ok ora mettiamo che vogliamo vedere ah ok possiamo aggiungere una seconda query basta andare qua più duplichiamo stavolta mettiamo di voler di voler di voler di voler di voler mostrare qualche altro numero vai e visualizziamo i dimessi guariti ok come vedete tra abbiamo un altro grafico aggiungiamo ancora uno duplichiamo la query non è necessario duplicare la coerina volendo potete anche venire qua ah ok scusate cancelliamo un attimo ritorniamo indietro ok qua abbiamo il totale dei tamponi se siamo a regione appunto li moltiplichiamo per tutte le regioni quindi torniamo qui andiamo a vedere se possiamo anche qui come volete se volete potete appunto mettere dei parametri anche di colore a seconda del dal livello raggiunto e proviamo a salvarlo un attimo e andiamo a vedere cosa riesce ok giustamente dobbiamo dargli più spazio quindi abbassiamo questo lo abbassiamo qui no andiamo a ingrandire questo ok come vedete qua poi abbiamo ora qua non è un grand card dal punto di vista visivo perché ci sono troppi dati andiamo a vedere se possiamo aggiustarlo in qualche modo se possiamo escludere qualche dato o qualche regione per farlo visivamente più un po' più gradevole quindi edit andiamo qui qui no no ok qua potete tipo scegliere come volete visualizzare il dato se potete visualizzarlo a livello percentuale o nel nostro caso visto che alcuni numeri sono molto grandi possiamo mettere short quindi le migliaia ce le seleziona come appunto key e e e torniamo qua la query mettiamo di ok se andiamo qua su edit mysql come vedete possiamo fare una query mysql ma si diciamo from regioni possiamo mettere un where where tamponi è maggiore di mille in modo da escludere le regioni che hanno fatto pochi tamponi vediamo se funziona ok ok come vedete ora abbiamo escluso qualche regione proviamo ad aumentare il numero eh fino a eh tre mila ok come vedete ora ah qui si sta visualizzando solo le regioni che hanno fatto più di tre mila tamponi e quindi ah tornando qua appunto come vedete avete due modi per fare le query ah c'è una diciamo una dove potete scrivere una utilizzando appunto il query builder ah siccome il query builder a volte non è molto chiaro soprattutto se non si conosce benissimo grafana ah si può appunto bypassare fare proprio delle query come le fareste appunto all'interno di mysql quindi ho fatto questo eh quindi ho fatto questo eh prima di andare qua abbiamo un titolo tamponi eh regioni che hanno fatto più di 3 mila tamponi ah fatto questo eh lo salviamo torniamo qui ok torniamo sul nostro dashboard come vedete qui abbiamo appunto le regioni che hanno fatto più di 3 mila tamponi qui abbiamo appunto invece eh tutti i casi di covid in tutte le regioni e qua invece un diagramma dei guariti di tutte le regioni eh andiamo a fare un altro grafico in cui magari possiamo visualizzare i dati eh incrociati di una singola regione quindi andiamo qui aggiungiamo un altro grafico aggiungiamo query prima selezioniamo il grafico anche qui direi di stare su questo dopo andiamo ad aggiustarlo andiamo a creare una query quindi selezioniamo regioni selezioniamo data ops come non ok non lezione regione questo ma che intanto lo togliamo un attimo selezioniamo selezioniamo allora mettiamo di voler mostrare appunto il totale dei casi qui appunto diciamo a intervallo di un giorno su un lasso di dieci giorni eh con appunto spostamento di un giorno come appunto di eh valutazione quindi qui abbiamo tutte le nostre regioni però noi vogliamo mostrare i dati incrociati di una singola regione quindi vogliamo vedere il totale dei casi e quanti di questi casi sono in ospedale quanti sono curati a casa per farlo non ci resta che andare qui in where expression ok valwe possiamo mettere appunto denominazione regione mettiamo di voler fare sul Lombardia ok si un attimo scopriamo qui denominazione regione uguale Lombardia come è chiamata Lombardia come è chiamata Lombardia maiuscola quindi torniamo qui un'altra virgoletta per vedere ok quindi uguale Lombardia tra virgolette fatto questo eh torniamo qui nel nostro query builder quindi abbiamo qua il nostro ok ah fatto questo facciamo ancora qua dove c'è select aggiungiamo una seconda colonna in questa seconda colonna andiamo a mettere eh quanti dei eh qua abbiamo il totale dei casi andiamo a mettere totale degli ospedalizzati qua scusate nel tornare al query builder si era sminchiato appunto il where e quindi come vedete ora abbiamo due linee tutte e due relative alla eh lombardia una è la linea appunto del totale dei casi quanti questi casi sono finiti all'ospedale come vedete la curva qua si allarga ci sono sempre più casi ma meno che finiscono all'ospedale aggiungiamo un secondo dato quindi sempre qui aggiungiamo una colonna dove c'è la select e e e andiamo a mettere i dimessi guariti ecco purtroppo la curva è abbastanza piatta e molto inferiore purtroppo a quella dei a quella dei dei casi totali speriamo che migliori quindi come vedete ora abbiamo tre linee relative alla lombardia totale casi totale ospedalizzati totale guariti andiamo ad aggiungere un'altra curva un altro dato guardiamo che dati abbiamo quanti in terapia intensiva quanti in isolamento domiciliare ok come vedete abbiamo è apparsa un'altra linea relativa a quelli appunto malati ma che sono a casa che quindi mai hanno sintomi lievi e come vedete qui abbiamo appunto i nostri quattro dati relativi a lombardia andiamo qua a mettere un titolo dati relativi alla lombardia salviamo qui la nostra tabella torniamo alla nostra dashboard e qui appunto abbiamo i dati relativi alla lombardia se volete possiamo muoverli qua sotto ok se volete possiamo allungare questo in modo da appunto avere questo blocco ok qui come vedete quindi come vedete insomma siamo riusciti ad ottenere tramite appunto queste query una visualizzazione appunto dell'andamento di questo maledetto virus ovviamente voi potete sbizzarrirvi quanto volete poi all'interno di di grafana ci sono un sacco di possibilità vediamo se riusciamo a farne ancora un paio qua sono ok voglio aggiungere i punti voglio aggiungere le nuove piegheline le lasciamo le barre però qua non funzionano anche servono altri tipi di dati insomma ehm sotto qua lo lasciamo stare stacco vediamo che cos'è ok ma volendo qua possiamo mettere invece la nostra la nostra leggenda sulla destra perchè diciamo è meno lunga rispetto a quella delle regioni come vedete poi cliccando sulla leggenda potete visualizzare il singolo dato l'intestante questo è il digiamento domiciliare è salito è sceso è salito e niente ora andiamo a vedere se possiamo fare ancora qualcosa quindi 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 mettere un attimo qui aspettiamo un po' pa 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 andiamo qui aggiungiamo ancora un pannello visualizzati proviamo con 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 quindi possiamo scegliere uno stats ehm pa 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 calculation ok calcola l'ultimo valore veniamo qua mettiamo una query quindi sentiamo sempre le giorni sempre data qua mettiamo denominazione il filtro qua per ora lo togliamo come vedete qua abbiamo c'è la regione non ci serve ora vogliamo vedere quanti sono in isolamento domiciliare e qua come vedete ci mostra i vari dati con ehm con appunto i nostri grafi con appunto il il l'ultimo risultato ehm diciamo della serie quindi quello di oggi ovvero il totale di oggi andiamo però siccome sono tanti non escono molto bene in grafica andiamo ad escludere tutti quelli che tutti quelli che appunto hanno isolamento domiciliare inferiore inferiore ovvero maggiore di 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 ehm vediamo 100 in questo momento vi ho scuso un po' di dati però siccome io facciamo 300 ok quindi questi sono quelli che hanno appunto dei pazienti a casa superiore di 300 ah qua 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 andiamo qui ah color background tac così qua abbiamo appunto questa cosa ah diciamo graficamente più più gradevole ovviamente qua potete sempre giocare con i colori quindi 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 facciamo che ah sopra i mille è rosso mentre ah dai 500 eh arancio 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 ok e ah e niente quindi questo lo salviamo togliamo qui dal nostro dashboard come vedete abbiamo il nostro appunto schema che possiamo muovere qua sotto e e e e e e ingrandirlo un po' appena riesco a beccare ok ok c'è un widget che fa un po' le bizze ok lo trascino qui lo metto qui a mhm 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 schermo questo lo rimetto dove era qua niente direi che per questo tutorial è tutto qua avreste visto insomma brevemente come poter appunto visualizzare i dati in grafana purtroppo i dati un po spiacevoli però insomma se volete monitorare sto maledetto virus diciamo se volete visualizzarlo diciamo in modo visivo per vedere le sue varie curve eccetera grafana è un modo veloce per farlo sperando che queste benedetti dati comincino a decrescere quindi sto benedetti verso l'alto cominciano invece a scendere verso il basso e niente da questo tutorial è tutto ci vediamo alla prossima nel repository in descrizione trovate il link con tutto il materiale e niente se vi è stato utile mettete un mi piace